Un cane aggredito e ucciso da due pitbull è accaduto ieri sera a diecimo nel comune di Borgo Ammozzano. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei vigili urbani. Secondo quanto è scritto dal sindaco Patrizio Andreucetti sulla sua pagina Facebook, i due pitbull erano liberi. Sì, purtroppo ieri sera è avvenuto questo fatto, proprio quando eravamo alla messa per la pace a Chifenti ci è arrivata la notizia di questo accadimento spiacevole che ha coinvolto due pitbull e purtroppo un piccolo cane del territorio che ci ha perso la vita. E quindi è un fatto spiacevolissimo in sé, ma questo tipo di accadimenti non devono assolutamente ripetersi perché oltre agli animali rischiano anche le persone. Quindi è fondamentale che tutta la comunità agisca affinché cose di questo tipo non avvengano. Io richiamo alla responsabilità i singoli, i padroni e chiaramente tutti noi per quanto è possibile fare perché davvero questi fatti non devono accadere.